ciao leo sono ivan sto seguendo sul tuo canale youtube mi stai dando dei grandi aiuti e un po di tempo fa ti avevo fatto vedere quest'arena top bar che era su 6 fabi adesso su 13 sta andando bene anche se ha fatto una settimana mezza due di brutto tempo si sono appena appena fermate però adesso in questi due giorni si è ripreso molto bene e c'è tanto miele e tanta covatta questi sono l'ultimo faba che hanno costruito e niente sta andando tutto bene ci sentiamo alla prossima ciao leo ciao ciao ciao